Torna a Roma al Teatro Olimpico da domani sera un musical storico, Gris, che proprio nella capitale festeggerà il traguardo delle mille repliche. Sono i nostri ospiti oggi il regista Federico Bellone, buongiorno, benvenuto il protagonista Filippo Strocchi nel ruolo di Danny, quello che fu di John Travolta, mentre Sandy è, c'è una nuovissima Sandy diciamo così, la 21enne Serena Corradori che prende il posto non solo di Olivia Newton-John del film, ma in Italia questa parte è stata di Lorella Cuccarini in palcoscenico. Allora vediamo appunto prima di parlare con voi proprio la versione con Lorella Cuccarini e quella con Serena Corradori. Allora Federico Bellone, qual è il segreto di questo straordinario successo? Dicevamo mille repliche in Italia, ma in realtà sono decenni che si replica in tutto il mondo. Voi siete tutti giovanissimi, non eravate nati né negli anni 50 quando è ambientata, neppure quando era stata scritta l'opera nel 71. Qual è questa musica? Qui si ballava tutti. Sì, noi ce lo siamo chiesti tante volte ovviamente. Diciamo che lo spettacolo è veramente una bomba che esplode ogni sera con tanta tanta energia che coinvolge veramente moltissimo pubblico. E il segreto forse sta nel fatto che si piace a chi era giovane negli anni 50, chi ama gli anni 50, ma anche ai giovani di adesso. Chi li scopre adesso? Filippo è uno che li ha scoperti senz'altro adesso perché non c'era e si ritrova in un ruolo che fu di John Travolta. Un bel peso. Assolutamente sì, infatti è una grossa responsabilità, ma diciamo che durante il montaggio io ho lasciato fluire il personaggio, diciamo contestualizzando questo personaggio ai giorni d'oggi e cercando di accontentare tutte queste generazioni che hanno assistito appunto a Gris, quindi dai più piccoli ai più anziani, visto che il nostro pubblico è veramente molto vasto da questo punto di vista. E Serena Corradori ha appena 21 anni e diciamo qui l'eredità è doppia, non c'è solo Olivia Newton-John, ma anche Lorella Cuccarini con cui confrontarsi. Ecco, grandissima responsabilità, grandissima, però una bellissima esperienza, sto imparando sul palco e quindi sono felice di questo. D'accordo, allora io vi auguro un grosso in bocca al lupo per la prima di Roma domani sera al Teatro Olimpico e per tutte le repliche in giro per l'Italia. Ripeto Gris, noi passiamo a parlare di un libro perché Maria Grazia Capulli ha letto prima per noi il nuovo romanzo di Lidia Ravera e poi di cinema, in particolare di film di fantascienza con Filippo Golia.